Buonasera, buonasera da Onda Tg, in primo piano subito la cronaca. Blitz de Nasse di Pescara a Sulmona, in una struttura che accoglie i migranti, messa a disposizione della Casa Santa dell'Annunziata, riscontrate carenze e sovraffollamento. Noi facciamo il punto nel servizio. Carenze genico-sanitarie e strutturali, criticità in materia di sicurezza sul lavoro, sovraffollamento. E' quanto avrebbero accertato i carabinieri del Nasse di Pescara, durante un controllo nella struttura che accoglie i migranti nel centro storico di Sulmona, dell'ex DC. Dopo l'ispezione, condotta in collaborazione con i carabinieri della locale compagnia e con il personale della ASL, i Nasse hanno segnalato all'autorità sanitaria e al commissario prefettizio del comune di Sulmona, Giuseppe Guetta, oltre alle carenze genico-sanitarie, anche alcune di tipo strutturale, in particolare per quanto riguarda l'altezza dei locali e altre in materia di sicurezza sul lavoro e barriere architettoniche. Inoltre, i Nasse hanno segnalato una situazione di sovraffollamento. La struttura è stata messa a disposizione dall'IPAB Casa Santa dell'Annunziata. Nulla trapela in questo momento dei vertici dell'ente, che si riserveranno in seguito di prendere una posizione. Esce fuori strada con la sua auto sulla provinciale 52, andata bene a una donna di Bugnara, fortunatamente rimasta illesa. Vediamo tutto. Sfiorata la tragedia nel primo pomeriggio lungo la strada provinciale 52, che collega Prato-La Peligna a Sulmona, Poteva andar peggio una donna di Bugnara che è uscita fuori strada con la sua panda, finendo in una cunetta. Ancora poco chiara la dinamica dell'incidente al vaglio dei carabinieri di Sulmona, che sono intervenuti sul posto. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che la donna abbia perso il controllo del veicolo a causa di un'avaria, probabilmente un problema al volante. Un difetto del mezzo che ha costretto la conducente a invadere l'altra corsia. Fortunatamente la donna sta bene. E uscire da sola dal mezzo e prestare i primi soccorsi è stato un giovane di Sulmona, che stava tornando proprio in quel momento nel capologo Peligno. La donna invece viaggiava in senso opposto. Per accertamenti la conducente è stata accompagnata da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Sulmona. E' l'ennesimo incidente che si verifica sempre sullo stesso tratto di strada. Sul posto, oltre ai carabinieri, al 118 sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Sulmona. La quinta commissione del Consiglio regionale adotta lo studio sulla qualità dell'aria. Progetto pilota presentato a Sulmona a punto di riferimento per l'intero territorio nazionale. Sono stati auditi due medici sulmonesi, Maurizio Cacchioni e Maurizio Proietti. Diventa un modello per tutta la regione Abruzzo lo studio sulla qualità dell'aria. Progetto pilota che parte dalla Valle Peligna per l'intero territorio nazionale, che è stato presentato nei giorni scorsi dai medici sulmonesi, Maurizio Proietti e Maurizio Cacchioni, alla quinta commissione del Consiglio regionale d'Abruzzo, presieduta dal consigliere Mario Livieri. Un'audizione che si è resa possibile grazie all'attenzione mostrata sull'argomento dall'assessore regionale alle aree interne, Andrea Gerosolimo. Il modello dello studio sulla qualità dell'aria era stato illustrato già sul Mona, a margine del Terzo Congresso Medico Nazionale lo scorso 8 aprile. Proietti e Cacchioni, membri della Commissione di Patologia Ambientale dell'Ordine dei Medici della provincia dell'Aquila, hanno esposto le linee generali del progetto pilota. Piero Di Carlo, ricercatore del CETEMS dell'Università dell'Aquila, ha esposto le critici taurografiche del territorio regionale, mentre Tommaso Pagliani, autore dello studio, ha esposto l'intero progetto relativo alla qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo. I componenti della Commissione consigliare, riferiscono i due medici sulmonesi, hanno rilevato l'importanza dello studio sottoposto al loro esame, che si caratterizza in termini di stringente attualità alla luce delle risultanze della Conferenza di Parigi sui cambiamenti climatici, e il Presidente della Commissione si è riservato di verificare la praticabilità, alla luce dell'attuale contesto normativo e delle disponibilità di risorse finanziarie, di uno studio della qualità dell'aria, riferito anche ad altre aree del contesto regionale, in possesso di caratteristiche orografiche simili al territorio della Valle Peligna. Per l'occupazione, bando 30 più, incentivi per chi assume giovani fino a 35 anni, le condizioni del bando sono state illustrate stamane a Pescara dall'assessore regionale a lavoro Andrea Gerosolimo. Sentiamo i particolari. È il momento delle aziende per il bando 30 più, che prevede incentivi per chi assume giovani fino a 35 anni. Da martedì 26 aprile fino a 27 maggio, infatti, le imprese interessate possono attingere dalla piattaforma Borsolavoro Abruzzo i curriculum dei giovani, i quali proporre un contratto a tempo indeterminato oppure un tirocinio professionale. Si tratta di un intervento a sportello, che può contare su una dotazione finanziaria di 1,2 milioni di euro. I termini del bando sono stati illustrati stamane dall'assessore alle politiche del lavoro Andrea Gerosolimo, che ha parlato di provvedimento importante che viene incontro alle esigenze di una fascia particolare di giovani disoccupati, che non hanno fruito delle misure di garanzia giovani. Le linee di intervento del bando sono due. Quella dei tirocini formativi extracurriculari e incendivi alle aziende che intenderanno assumere a tempo indeterminato al termine dei tirocini di sei mesi quelle aziende che intenderanno assumere i tirocinanti. Per quelle aziende sono previste 6.000 euro di incentivo nel caso di uomo e 9.000 euro nel caso di donna, che si vanno a sommare agli incentivi stabiliti al job act del governo Renzi. Il nostro obiettivo, ha detto Gerosolimo, è di arrivare a incendivare contratti a tempo indeterminato e le misure economiche messe in campo permettono all'imprenditore di assumere giovani senza alcun aggravio di spesa sugli oneri contributi per almeno un anno. In un mese nella piattaforma Borsa Lavoro Abruzzo sono stati raccolti 1.400 curriculum a testimonianza dell'attenzione che i giovani riservano a questa iniziativa. Io devo dire che stamattina mi hanno comunicato una risposta straordinaria. Ci sono 1.400 curriculum depositati e credo che questa sia innanzitutto una risposta più che positiva che la Regione Abruzzo ha dato a questo tipo di problematica. All'interno del Bandro, inoltre, l'assessore Gerosolimo ha confermato che i giovani che risiedono nei comuni delle aree interne e delle aree a ritardo di sviluppo hanno la priorità. Con questa misura, ha chiarito l'assessore al lavoro, non vogliamo creare delle aree privilegiate, anche perché la priorità riguarda 230 comuni su 305, ma solo concentrare l'attenzione su giovani che hanno meno opportunità di altri. Ebbene che il processo di riequilibrio dello sviluppo della Regione guardi non solo agli investimenti, ma anche alle politiche del lavoro. Domenico Capaldo correrà con SEL come candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative. Capaldo è il sesto candidato a ufficializzare la sua candidatura a sindaco del capologo Peligno, dopo Anna Maria Casini, Noi per Sulmona, Alessandro Lucci, Svic, Sulmona e Movimento, Alberto Riggian Domenico, Sovranità, Elisabetta Bianchi, Forza Italia e Bruno Di Masci. In una nota SEL aveva già spiegato le ragioni di una corsa solitaria per conquistare la poltrona del primo piano di Palazzo San Francesco. Di fronte alla caporetto della politica locale, dove sembra che tutti facciano a gara a nascondere le proprie appartenenze politiche, vergognandosi del loro operato e dei partiti di cui fanno parte, e nel tentativo di confondere le acque di elettori sulmonesi, SEL ribadisce con forza e convinzione che in questa città, spiegano dal partito, c'è bisogno invece di una politica e di un'etica della stessa. Personaggi vecchi e nuovi pensano così di poter continuare nella logica della spartizione, della preservazione del potere e del perseguimento dei propri fini, e quindi SEL sceglie la politica pulita, la politica alla luce del sole. Una consulta comunale per lo sport è l'idea lanciata invece dal candidato sindaco Bruno Di Masci nel corso di un incontro con le associazioni sportive sulmonesi. I dirigenti dei Sodalizi, rappresentanza delle diverse discipline sportive presenti in città, hanno posto in rilievo i problemi che vive il mondo dello sport locale. Sono centinaia i giovani sulmonesi e del territorio che frequentano queste associazioni dedicandosi alla sana pratica dello sport. Per questo motivo soprattutto le attività sportive vanno sempre incoraggiate e sostenute, ha sottolineato Di Masci. La consulta vedrà partecipi e protagonisti rappresentanti delle varie associazioni che si prodigano ogni giorno delle attività sportive, conseguendo anche successi importanti che onorano la città di Sulmona. L'organo consultivo affiancherà il consigliere comunale che avrà la delega allo sport, e così da creare un utile collegamento tra le associazioni stesse e l'amministrazione comunale, ha spiegato il candidato sindaco concludendo l'incontro. E ora cambiamo argomento perché si firma anche a Sulmona per la legittima difesa negli uffici di Palazzo San Francesco non pochi sulmonesi che ai microfoni di Onda Tg si sono schierati a favore dell'iniziativa popolare sollevata dall'Italia dei Valori. Vediamo tutto nel servizio. A proda anche nel capologo Peligno la proposta di legge ed iniziativa popolare riguardante la legittima difesa. Negli uffici di Palazzo San Francesco è possibile sottoscrivere la raccolta firme che sta facendo il giro dell'intero territorio nazionale. Con tale proposta, lanciata dall'Italia dei Valori, si chiede l'aumento della pena per i ladri, nessun risarcimento a chi va a rubare nelle case per le eventuali lesioni causate al ladro o agli eredi in caso di morte, nessun reato condanna per chi si difende in casa propria dai ladri. I sulmoni se nel frattempo dicono la loro ai microfoni di Onda Tg. Per la maggior parte degli intervistati al nostro sondaggio la legittima difesa deve diventare legge a favore di chi subisce dei torti o dei danni. Qualcuno ci va con i piedi di piombo, sostenendo che il legislatore dovrà delimitare i limiti della legittima difesa perché quest'ultima poi non sfoci in un far west o in una giustizia privata. Penso proprio di sì, ha maggior ragione proprio per i tempi che stiamo attraversando dove è evidente non ci si sente più sicuri a casa. Penso che sia doveroso. Certo perché è intollerabile, uno sta nella sua privacy dentro casa, sta facendo le sue cose come è giusto che sia, arrivano dei delinquenti e si passa un guaio se tu ti difendi e difendi te stesso e la tua famiglia. Quindi deve essere legge a favore di chi subisce dei torti e dei danni. L'ultimo anche da queste parti a Sulmona si sono nascosti sotto il letto. Io non so chi siano però è intollerabile. Io stesso anni fa sono stato vittima di un furto. Aspetto ancora che le forze dell'ordine mi restituiscano il mal tolto. Potrebbe essere sicuramente una buona proposta di legge. Certo, entro certi ambiti ben definiti perché veramente si potrebbe arrivare al far west, alla violenza privata, alla giustizia privata e là diventa veramente un problema. Sicuramente, per ovvia ragione perché se è vero che il privato ancora è sacro, la proprietà privata, come tala dovrebbe essere sacra anche l'immunità di colui il quale visto si è aggredito può in un certo modo almeno difendersi. Se uno ti entra a casa come fai a non essere difeso? Deve essere legge per forza? Sì, potrebbe essere legge. Però non fare una legittima difesa per eccesso. Per difendersi, perché giustamente uno sta a casa sua vuole anche difendersi. Quindi per me è legittimo. Si può sottoscrivere la raccolta firme a fianco all'ufficio dello Stato civile rispettando gli orari di apertura al pubblico. Anche un avvocato penalista sul Monese, Cinzia Simonetti, partecipa agli stati generali dell'esecuzione penale. Fra le alte cariche della magistratura dell'avvocatura dello Stato l'attenzione è stata puntata anche sul carcere di Via Lamaccio. Anche un avvocato penalista sul Monese, Cinzia Simonetti, ha preso parte nei giorni scorsi alla cerimonia conclusiva degli stati generali dell'esecuzione penale. Simonetti è membro dell'osservatorio carcere dell'Unione delle Camere Penali e della Camera Penale di Sulmona. Al centro degli stati generali la riforma dell'intera normativa in materia di esecuzione delle pene. Si accendono dunque riflettori della politica nazionale anche sul carcere di Via Lamaccio. Sul Mona, rileva Simonetti, annovera in Abruzzo il penitenziario di più alto rilevo regionale, sia in ordine alle numerose presenze, sia se consideriamo che nel suo interno ci sono solo detenuti in regime di alta sicurezza. Per questo è necessario attivarsi, e mediante un assiduo impegno nei tavoli in cui possono nascere rapporti con rappresentanti di alto profilo, portare la politica a riflettere sulle istanze più che legittime provenienti dal nostro territorio. Al ministro è stato consegnato da professore Glauco Giostra il lavoro svolto dagli esperti, che come me hanno composto i tavoli di studio perché nel nostro paese, aggiunge l'avvocato, la pena venga riportata entro un panorama costituzionalmente orientato, ricordando che essa è la diretta conseguenza di una o più azioni, ma l'uomo non è solo le sue azioni. All'evento hanno partecipato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il presidente merito napolitano, sei ministri dell'attuale governo, il presidente della CEI, Monsignor Bagnasco, la vicepresidente del Consiglio d'Europa e numerose personalità dello Stato, dell'avvocatura e della magistratura. Un cammino in ricordo dei prigionieri e dei partigiani parte domani da Sulmona la sedicesima edizione del Sentiero della Libertà. Saranno oltre 500 i marciatori del Sentiero della Libertà, trekking che attraverserà la Maiella e che prenderà il via domani mattina da Sulmona per arrivare a Casoli il 25 aprile intorno alle 16. Il 24 aprile ci sarà la salita a Guado di Coccia e poi l'arrivo a Sacrario della Brigata Maiella a Taranta Peligna nel pomeriggio. Più di 300 gli studenti di tutta Italia che hanno aderito alla manifestazione giunta alla sedicesima edizione. Su Facebook è nato un gruppo sul Monagain and again formato da giovani di Cuneo che in passato avevano partecipato alla traversata. Quest'anno siamo tornati ai grandi numeri, siamo di nuovo in 500, abbiamo di nuovo il ritorno del gruppo di Cuneo che è stato molto cospicuo, molto numeroso, abbiamo Brescia che è tornata con la scuola del liceo scientifico, abbiamo molte persone che sono venute singolarmente da tutta Italia, è bella la partecipazione, è molto calda, anche da parte di Casoli che quest'anno torna a partire con noi da Sulmona e c'è una bella atmosfera. Non altrettanto bella, si prospetta il tempo, ma noi ci siamo abituati e siamo pronti ad ogni evenienza. Il sentiero che sarà percorso era la via di fuga di migliaia di prigionieri alleati, di giovani italiani che lottavano per la liberazione d'Italia, divisa dalla linea Gustav dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, quando l'Abruzzo divenne terra di confine e angolo di speranza per i fuggiaschi che si schieravano con l'esercito alleato. La prima edizione ci fu nel 2001, quando il presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azzeglio Ciampi, venne a Sulmona per inaugurare la prima edizione. I giovani partecipanti disse «Anch'io fui uno di loro, lasciai Sulmona, lasciai coloro che mi avevano accolto come un fratello nelle loro case qui a Sulmona la sera del 24 marzo 1944. In quelle giornate, in quei mesi di tragedia e di gloria, le popolazioni di queste regioni diedero prova di straordinario eroismo e di grande spirito umanitario». Nel 2003 venne creata l'associazione Sentiero della Libertà Freedom Trail all'interno del liceo scientifico Fermi ed è stata l'opera indefessa dell'associazione che ha mantenuto alto l'obiettivo della conservazione della memoria. Non solo attraverso le varie edizioni, ma anche e soprattutto attraverso la pubblicazione delle autobiografie degli ex prigionieri di guerra, otto volumi pubblicati, con l'ultimo, che è un'antologia curata da Maria Losari, la Morgia e Mario Setta, dal titolo Terra di Libertà. E nella festa della liberazione del 25 aprile, il comune di Prato La Peligna intitolerà una strada al deportato politico Rocco Di Pillo, tornato dai lager, nel 1945 pesava 30 kg. Sentiamo tutto nel servizio. Il comune di Prato La Peligna intitolerà la strada di Via Pratelle a Rocco Di Pillo, il cittadino pratolano deportato politico nei campi di sterminio tedeschi dal 1943 al 1945. Rocco Di Pillo era nato a Pratola e qui ha vissuto fino al 1998. Il 20 aprile del 1945, quando venne liberato con l'arrivo degli alleati, pesava solo 30 kg. Con grande emozione dedichiamo questa strada comunale a una persona speciale, un grande uomo che ha reso onore con la sua dignità e il suo coraggio a tutta la nostra comunità, dichiare il sindaco Antonio De Crescentis, un uomo che ha conosciuto l'inferno dei lager nazisti. Noi abbiamo il dovere di trasmettere, soprattutto ai più giovani, i suoi valori di pace, libertà, giustizia, ugualianza, che sono i valori che ispirarono la resistenza. E la memoria del passato deve legarsi indissolubilmente all'impegno per la difesa della democrazia e della libertà, sottolinea il sindaco. Alla cerimonia di intitolazione prevista per la festa del 25 aprile alle ore 9.30 saranno presenti i figli Aldo ed Ezio Di Pillo che hanno ricevuto dal Presidente della Repubblica la medaglia d'onore destinata al loro padre. A loro va il nostro abbraccio più grande, conclude De Crescentis. È iniziato a Casa Onna l'undicesimo corso base di fotografia organizzato da Fotoclub 99 in collaborazione con l'Istituto Lanterna Magica dell'Aquila. all'intervista. Una straordinaria occasione di aggregazione culturale, di suggestione e di grande curiosità perché un corso base di fotografia suscita l'attenzione di tantissimi appassionati. Più di 100 sono le persone che hanno voluto partecipare. Il corso è iniziato il 18 aprile, siamo al secondo appuntamento, un'iniziativa che si protrarrà fino al 23 maggio. Piero Cocco, socio Fotoclub 99 L'Aquila, le sue impressioni su tanta partecipazione e tanta passione da parte di molte persone. Siamo al nostro undicesimo corso di fotografia per cui insomma un corso più che sperimentato. Il corso si compone di 11 lezioni frontali e una o due uscite sul campo che concorderemo insieme agli astanti. Il corso di quest'anno è molto affollato ma anche i corsi precedenti erano sempre stati abbastanza numerosi gli iscritti e questi nostri corsi che sono partiti all'epoca dell'analogico ci ha fatto capire che il digitale ha portato nuova linfa e nuove voglie di conoscenza da parte della gente. Per cui i nostri corsi sono sempre molto affollati e noi ne siamo molto felici. Il corso di quest'anno ha una particolarità ha un valore aggiunto è quello che dopo la prima ora di lezione ogni serata avremo un ospite professionista che darà veramente un valore aggiunto a questa nostra manifestazione. Ci sarà il meglio della fotografia aquilana e non perché ci sono dei personaggi che hanno una caratura che va ben oltre i nostri confini cittadini. Cosa significa oggi fotografare in un'epoca in cui anche con i telefonini con i cellulari questi iPhone si può fare di tutto ecco qual è il segreto che mantiene appunto la fotografia e in generale il fascino delle istantanee? La fotografia è cambiata molto e al tempo stesso è sempre la stessa perché bene o male la fotografia è sempre quella però gli strumenti messi a disposizione per catturare le immagini l'hanno resa l'hanno un pochino democratizzata se vogliamo prima c'era un certo timore reverenziale nei confronti di chi usava la macchina fotografica complessa la reflex oggigiorno il telefono uno smartphone ognuno ce l'ha in tasca per cui è diventato uno strumento preziosissimo del quale si avvalgono non soltanto i normali utenti ma se ne avvalgono anche le case le case editrici le testate giornalistiche che approfittano degli scatti delle persone che si trovano in quel punto nel determinato momento e colgono degli attimi irripetibili e i giornali ne fanno tesoro per cui è cambiato proprio il modo di circolazione non soltanto di ripresa delle immagini fotografiche e ora parliamo di Perbole Pocket la rivista del liceo scientifico Enrico Fermi di Sulmona studenti reporter premiati a Cesena gli studenti del liceo scientifico Fermi di Sulmona sono stati premiati ieri giovedì 21 aprile 2016 nel teatro Bonci di Cesena nella cerimonia conclusiva della tredicesima edizione del concorso nazionale fare giornale nelle scuole promosso dall'ordine nazionale dei giornalisti per la realizzazione di Perbole Pocket nella motivazione spiccano l'originale grafica e il formato innovativo del giornalino redatto dagli studenti stessi i quali hanno ritirato una medaglia e un attestato accompagnati dall'insegnante Antonio Di Fonso oltre 600 le scuole partecipanti e 60 gli istituti scolastici divisi per categorie e ordine di istruzione che si sono aggiudicati il prestigioso riconoscimento alla manifestazione hanno partecipato il sindaco di Cesena Paolo Lucchi il quale ha aperto i lavori il vicepresidente dell'ordine nazionale dei giornalisti Santino Franchina e il direttore del quotidiano avvenire Marco Tarquinio il quale si è confrontato con gli studenti sul tema comunicare la scuola oggi sottolineando l'importanza che assume il rapporto informazione e istruzione per le giovani generazioni esprimo grande soddisfazione per il riconoscimento ottenuto afferma il preside Massimo Di Paolo a nome di tutto il polo scientifico tecnologico fermi di Sulmona che dirige tenendo a sottolineare l'autenticità del lavoro svolto come prodotto esclusivo degli studenti privo di rimandi o manipolazioni da parte degli adulti voglio evidenziare la bravura e la creatività dei ragazzi qualità riconosciute dall'ordine nazionale dei giornalisti si sta preparando intanto in queste settimane la prossima uscita della nuova edizione di Perbole Pocket 2016 tra i reporter in erba del liceo scientifico di Sulmona che hanno partecipato alla cerimonia di premiazione Nino Critelli Lorenzo Di Orio Sofia Di Nicola Domenico Di Pietro Marta Ferzoco Gabriella Gaeta Matteo Lonarduzzi Damiano Mastrangioli Flavia Matis Roberta Piscopo Giussi Spacone e Matteo Zavarella e ora torniamo a Prato la Pelinia per parlare del torneo di calcio giovanile dedicato alla Madonna della Libera che parte domani ed è giunto alla quindicesima edizione Domenico Berlingeri in servizio Torna a Prato la Pelinia il torneo di calcio giovanile Madonna della Libera organizzato dalla Virtus Pratola giunto quest'anno alla quindicesima edizione la manifestazione che come al solito si svolgerà al campus abbraccerà tutto il periodo dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Libera si partirà infatti domani per terminare il 15 maggio le varie categorie si alterneranno in diverse giornate la prima fase del torneo andrà da sabato 23 aprile a lunedì 25 con i piccoli amici ed i pulcini si incomincerà dunque domani con la cerimonia di inaugurazione alle 16.30 che vedrà la sfilata delle squadre partecipanti una decina circa provenienti da tutta la regione a seguire scenderanno in campo i piccoli amici nati nel 2009 e 2010 in gare di calcio a 5 domenica 24 sarà la volta dei piccoli amici nati nel 2008 e 2009 sempre in partite di calcio a 5 mentre lunedì 25 spazio alla categoria pulcini nati nel 2007 e 2008 in gare di calcio a 7 gli incontri domani si svolgeranno solo nel pomeriggio mentre domenica e lunedì per l'intera giornata dalle 9 alle 19 il torneo proseguirà domenica 1 maggio con la categoria pulcini nati nel 2006 e 2007 in gare di calcio a 7 domenica 8 maggio con gli esordienti nati nel 2005 e 2006 sempre in gare di calcio a 7 e per finire dal 9 al 15 maggio i protagonisti saranno gli esordienti nati nel 2003 e 2004 che giocheranno partite di calcio a 11 prima di chiudere vediamo come al solito quali sono i film in programmazione la multisala Isoland di Corfinio nonno scatenato con proiezione alle 21 e 10 il codice 999 sempre alle 21 e 10 e il libro della giungla alle ore 21 vi ricordo invece su Andarivu alle 21 che sarà riproposta la rubrica dedicata alle scommesse sportive Honda Strike ebbene il telegiornale finisce qui la prossima edizione domani alle 13.30 grazie per essere stati con noi e a voi tutti lascio la buona serata arrivederci sulla nostra regione condizioni di cielo parzialmente nuvoloso nuvoloso con ampie schiarite a partire dal settore occidentale in estensione verso le restanti zone ma poi è previsto un graduale aumento dell'instabilità con elevata probabilità di addensamenti consistenti al ridosso di rilievi e sul settore occidentale localmente associati a rovesci anche a carattere temporalesco in estensione verso le zone pedemontane collinari che si affacciano sul versante adriatico non si escludono fenomeni anche lungo le aree costiere ma la tendenza è verso una temporanea attenuazione della nuvolosità innottata anche se da domani è previsto un nuovo peggioramento a partire dal settore occidentale temperature generalmente stazionarie venti orientali lungo la fascia costiera occidentali altrove mare generalmente poco mosso o localmente mosso a partire come la che s asp